In questo video vedremo tre trucchi, tre piccoli suggerimenti per eseguire una risemina del prato a regola d'arte. Diciamo subito che lo scopo di una buona strategia di risemina del prato alla fine dell'estate è quello di fare in modo che il nuovo manto erboso germini rapidamente e diventi prima possibile fitto e denso. Negli anni ho elaborato all'interno del metodo besprato una strategia molto efficace e dopo ti metterò il link qui sotto. Prima però vorrei sottolineare alcuni aspetti diciamo così secondari che però possono fare una certa differenza. Si tratta diciamo di tre piccoli trucchi che io uso sempre. Allora per prima cosa dopo aver eseguito le operazioni di rimozione del feltro, di arrieggiatura, di taglio basso, sono solito eseguire una profonda irrigazione. Quando dico profonda irrigazione parlo di 15 litri di acqua al metro quadro. Vado cioè a creare una specie, come potrei chiamarla, di riserva idrica. Questo stratagemma lo uso in maniera particolare quando fa ancora caldo e da molto tempo che non piove. Il secondo trucco, diciamo così, trucco o suggerimento consiste nell'eseguire una concimazione fogliare, quindi una concimazione utilizzando dei prodotti liquidi nel prato esistente, diciamo qualche giorno prima, addirittura una settimana, prima di iniziare i lavori di risemina vera e propria. Questa nutrizione permetterà al vecchio manto erboso di non soffrire troppo la possibile carenza di elementi minerali anche quando ovviamente andiamo a eseguire la concimazione starter di risemina. Concimazione starter che però ha un contenuto di azoto parecchio basso. L'ultimo accorgimento riguarda il dosaggio delle sementi. Ne ho parlato diverse volte, ma la regola molto semplice da ricordare è questa. Se la risemina viene eseguita in un prato molto diradato, io sono solito a suggerire di utilizzare il dosaggio consigliato dai produttori, quello che si trova nella scatola. Mentre, segui bene, se il diradamento è leggero, quindi non molto accentuato, aumento le quantità fino al 15% in più. È controintuitivo, ma te lo spiego molto semplicemente, perché una parte delle sementi che andremo ad utilizzare andrà sicuramente persa per competizione con le piantine ad erbe esistenti, cioè i semini cadranno vicini e questi semini non germineranno o germineranno molto male. Bene, questi erano dei tre piccoli trucchi, spero che ti siano stati utili, che ti siano stati utili. Sono ovviamente il completamento della strategia di risemina del metodo besprato, nella quale ogni fase è una strategia molto più articolata, ogni fase è importante e non va assolutamente saltata. L'articolo di approfondimento che spiega come si esegue step by step la risemina a regola d'arte del metodo besprato lo trovi linkato qui sotto. A presto!